Eder. Mech. Pallister. Trieste, città di confine e crocevie di culture, si trova oggi al centro di un clima di crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni, in particolare della giustizia. La recente scomparsa e morte di Alex Marangon, un giovane barman di 25 anni, ha sollevato interrogativi inquietanti sul funzionamento delle indagini e sull'efficacia delle autorità nel fare luce su un caso che presenta numerosi punti oscuri. La madre di Alex, Sabrina Bosser, esprime una frustrazione palpabile. Siamo demoralizzati, arrabbiati, perché vediamo che è tutto fermo. Queste parole risuonano non solo come un grido di dolore, ma anche come un appello alla responsabilità da parte delle autorità competenti. Dopo una festa sciamanica, Alex è scomparso, e il suo corpo è stato ritrovato tre giorni dopo nel fiume Piave, con segni evidenti di violenza. Le indagini, avviate con l'auspicio di chiarire le circostanze della sua morte, sembrano essere bloccate. Le ipotesi che circolano, dal suicidio all'omicidio, non trovano una conferma solida, e la mancanza di progressi tangibili nel caso è fonte di ulteriore angoscia per i familiari. Non ci sono indagati, né nulla è stato messo sotto sequestro, denuncia Bosser, mettendo in evidenza l'enorme gap tra le aspettative di giustizia e la realtà dei fatti. Sabrina Bosser fa inoltre riferimento a un presunto muro di omertà che circonda gli eventi della festa. Suggerendo che i partecipanti potrebbero aver scelto di tacere per proteggere se stessi o per timore di ritorsioni. Hanno fatto un voto di omertà, afferma, e prosegue con accuse gravi, sostenendo che alcuni testimoni avrebbero parlato con i giornalisti prima che con gli inquirenti. Un chiaro segnale di una situazione in cui la verità sembra sacrificata sull'altare del silenzio. Un elemento chiave nell'indagine è rappresentato dagli esami tossicologici, che potrebbero fornire indizi cruciali riguardo alla morte di Alex. Tuttavia, le informazioni sui risultati sono scarse, e Bosser rivela che il laboratorio di Trieste non sarebbe in grado di analizzare alcune sostanze specifiche, come la ayahuasca utilizzata durante la festa. Questo compica ulteriormente la situazione e porta a domandarsi se la procura stia seguendo la direzione giusta nel suo approccio investigativo. La narrazione di Bosser si arricchisce di dettagli inquietanti riguardo alla cultura sciamanica e ai rituali che avvengono in date significative, come il 30 giugno, giorno della scomparsa di suo figlio. La connessione tra questi rituali e la morte di Alex introduce un'ulteriore dimensione al caso, sollevando dubbi su cosa realmente possa essere accaduto quella notte fatidica. Sabrina suggerisce che Alex potrebbe aver assistito a una violenza e, nel tentativo di opporsi, potrebbe aver pagato un prezzo terribile. nonostante il dolore e la rabbia, la madre continua a combattere per la verità, evidenziando la necessità di un'inchiesta più seria e approfondita. L'assenza di indagini concrete e la sensazione di abbandono da parte delle autorità gettano un'ombra inquietante su Trieste, un luogo che, nel suo passato, ha visto speranza e rinascita. Oggi, invece, sembra che la giustizia non riesca a trovare il suo posto, lasciando le famiglie in un limbo di incertezza e sofferenza. Il caso di Alex Marangon non è solo una questione personale, ma un campanello d'allarme per la società triestina. La mancanza di trasparenza, la paura di parlare e l'inefficacia delle indagini sollevano interrogativi su quanto sia sicuro e giusto il nostro sistema di giustizia. La speranza di trovare risposte e giustizia è ciò che spinge Sabrina Bosser a continuare la sua battaglia, affinché la verità sulla morte di suo figlio emerga finalmente dall'oscurità che sembra avvolgere Trieste e le sue istituzioni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Ehi, non dimenticare! Ehi, non dimenticare! Ehi, non dimenticare! Ehi, non dimenticare! Ehi, non dimenticare!